Budapest Budapest è l'albergo baniterinale che posto elegante e anche ben protetto è ora di farmi bello e cogentrarmi per fortuna ho portato il mio comporatore credo che stavolta punterò sulla vecchia scuola questo è lo sfogliatoio delle signore dunque ovviamente lei non può entrare però se lo desidera può usare la mannaia dello chef per rimediare a questo problema di sesso va più pietà No, no, no. Grazie a tutti.